Buongiorno a tutti, ben sintonizzati su OK Italia Parliamone in collaborazione con Masso Camerestero, Your Italian Hub e A Italy. Oggi nuova puntata per mettere a confronto Italia e Stati Uniti su un tema specifico con la finalità di far emergere come diverse realtà affrontano la stessa problematica. Oggi il nostro ospite per OK Italia Parliamone per parlare di come il mondo delle pubbliche relazioni e dell'organizzazione di eventi negli Stati Uniti sta affrontando l'emergenza Covid-19. Abbiamo Sally Fisher, fondatrice vicepresidente di Sally Fisher Public Relations con sede a New York City. Benvenuta Sally! Con piacere ci sono, grazie. Grazie Sally e sempre con noi la mia compagna di avventura di viaggio in questo ciclo di approfondimenti, oramai ben conosciuta da tutti gli amici, Letizia Aeros, editor in chief di A Italy Network. Benvenuta anche a te Letizia! Eccoci qua a New York in una giornata freddissima, ma siamo caldi. Roma invece risponde con un bellissimo sole che quindi ci scalda anche se questa notte aspettiamo temperature gelide. Comunque... Ma la cosa buffa è che stamattina mi sono svegliata e abito proprio in centro di New York su Columbus Circle, che forse conoscerete bene, e ho postato sui miei social media una foto del Columbus Circle e ho detto, qui a New York fa zero gradi, 32 Fahrenheit, zero centigradi, fa freddissimo però c'è il sole. E quindi fa una grande soddisfazione. Sally, tu sei di New York, ma d'altronde parli italiano benissimo perché in giovane età ti sei trasferita a Firenze dove hai completato il liceo e poi anche l'università. Ed è proprio durante questi anni di studio che hai imparato a conoscere e ad amare l'Italia, tanto che tornata negli Stati Uniti sei sempre rimasta in contatto con l'Italia e hai dedicato poi la tua carriera alla promozione del meglio dell'Italia, perché ti occupi di promuovere i film, prodotti enogastronomici, ma anche la promozione di regioni, di città, organizzi festival ed eventi speciali, tutto finalizzato a valorizzare il Made in Italy e quello che può rappresentare il bello che mette in campo l'Italia. Un elemento molto importante che penso ti abbia fatto anche gran piacere è l'incontro che hai fatto con l'Onorevole Mattarella, col Presidente della Repubblica Italiana, perché nel 2018 ti ha riconosciuto l'essere cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia. Penso che sia qualcosa di veramente importante. Selly, stiamo vivendo una pandemia però che cambierà sostanzialmente i nostri stili di vita. L'orientamento generale durante il periodo di fermo delle attività a causa ovviamente dell'emergenza Covid-19 in Italia, per esempio abbiamo avuto un primo momento di lockdown, ma ora stiamo entrando ufficialmente, alcune regioni prima, altre dopo, in una seconda ondata di lockdown. Bene, è stato quello, l'orientamento generale è stato quello di cercare di digitalizzare gli eventi con eventi in live streaming, webinar, formazione online e altre forme, gli eventi virtuali. Si cerca quindi di correre ai ripari per cercare di limitare almeno in parte i tanti danni per il comparto e l'organizzazione eventi e voglio ricordare anche l'ultima iniziativa in ordine di tempo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che ha annunciato le misure previste dall'ultimo decreto, che è stato rivolto agli organizzatori di eventi espositivi che hanno subito delle gravi perdite a causa delle chiusure dovute alla pandemia. In totale tra prima e seconda ondata lo stanziamento è arrivato a 25 milioni di euro. Sally, possiamo dire che tu ti senti molto più italiana di tanti italiani sicuramente. Ti chiedo come è nata la passione per il nostro paese, ma anche in che modo gli Stati Uniti stanno aiutando il tuo comparto? Guarda, grazie delle domande. Anzitutto volevo dare la mia passione per tutti voi che state passate di nuovo passando un periodo terribile. Devo dire che qua in America non abbiamo mai fatto il balzo come in Italia. Noi siamo sempre rimasti in condizione terribile. Non si è mai abbassato il numero da poter dire uno può uscire, uno può fare vita normale. Noi da marzo 13 del 2020 siamo in isolation e praticamente da allora il lavoro è remote, tutto è remote. Andiamo nel ristorante ma mangiamo solo fuori nei giardini. Thanksgiving che è il nostro giorno di ringraziamento è settimana prossima e nessuno sarà in famiglia. Saremmo in pochi a poterlo festeggiare. Invece l'Italia che abbiamo noi da ringraziare voi avete passato da febbraio, da fine febbraio un periodo tragico che siete riusciti nei mesi tra febbraio e maggio a veramente focalizzarsi e capire come insieme potevate migliorare la situazione. Avete passato un bellissimo estate. perché è molto italiano questo e diciamo che adesso è tornato ma qui siamo sempre rimasti e devo dire che forse non è né bene né male però si sta abituando. Cosa vuol dire? L'America ha molto da ringraziare l'Italia come ho detto prima perché iniziative tipo quello che ha fatto Letizia Ayros con iItaly che ha fatto tutte le ambassadors a dare siamo con voi siamo con Italia abbiamo registrato tantissimi messaggi e Italia invece ha dato a noi bellissimi video aereeplani che volavano con fuochi artificiali cioè sono state iniziative bellissime fra l'altro voi nel settore digitale e tecnico siete molto avanzati più avanzati di noi perciò con i vostri video che avete preparato per promuovere l'Italia in un periodo difficile abbiamo imparato a sorridere e anche nel modo più in assoluto diciamo che nella moda nel mangiare nel cinema abbiamo visto delle iniziative di sfilate di cose che in genere succedono in un altro modo però abbiamo viste io posso dirvi che stiamo alla pare il mondo sta soffrendo tutti non è che qualcuno fa sì forse Nuova Zilandia sta avanti a noi però si rientra nel mondo insieme non è che perdiamo tempo adesso andiamo gli stessi passi tutti cercando di creare una comunità ed è questo che ho cercato io di fare posso dirvi qualche esempio se stai volendo? Sì se c'è qualche esempio perché insomma io immagino che da marzo, aprile, maggio siano stati dei mesi diciamo terribili per una persona attiva come te io voglio dirlo chiaramente Sally Sally Fisher rappresenta diciamo l'Italia delle pubbliche relazioni qui a New York la maggior parte degli eventi passano da lei, dei eventi anche molto importanti anche diciamo non abbiamo detto che lei ha lavorato molto con i musei italiani per esempio ha portato la cultura a tutto tono quindi bisogna essere flessibile io lavoro come un indipendente perciò non dipendo da un'azienda che in questo momento forse è bene allora quando a marzo avevo 20 eventi, 20 ho visto improvvisamente tutti a dirmi ma guarda ma come si fa all'inizio non ci credevo cioè perché noi in America non avevamo covid come voi però sapevo che... certo l'ho detto perché c'era anch'io la percezione è completamente sfalsata è stato no quello che succedeva in Italia sembrava impossibile qui negli Stati Uniti quanto in Cina e in Italia cioè uguale no però ovviamente entro breve siamo entrati anche noi e abbiamo anche ben superato perciò io ho cambiato e ho cominciato ad insegnare a studenti della Bocconi, della Cattolica, della Yulm ho fatto lezioni di pubblicizzazione per qualche mese perché loro facevano stage e io avevo stagisti con me già perché dalla mia carriera che ho stagisti e ho detto è un periodo di insegnamento insegno perché non tutti i clienti sono andati via perché qualche cliente fisso attore nel cinema vanno avanti per esempio c'è Martin Eden è un film italiano che è uscito in Italia un anno fa che è un film scritto da Jack London tratto da un libro di Jack London che ebbe successo in Italia che Luca Marinelli ha vinto a Venezia come protagonista il film doveva uscire qua in aprile e hanno spostato adesso a ottobre però abbiamo continuato con le promozioni e anzi Luca ebbe moltissimo successo come anche il regista che devo dire che il cinema italiano ha molta forza adesso esce il film di Sophia Loren in Netflix è un film regista del suo figlio è molto fiera di questo in Italia lo conoscete bene però capisci che ci sono tantissime iniziative italiane c'è questa puntata Made in Italy che è anche su live streaming che tutti stanno parlando seguendo per dire c'è anche Emily in Paris che è questa ragazza americana che è a Parigi che non è Italia però lo stesso punto sull'americano per vedere la visione fuori di sé allora cosa ho fatto? Ho cercato di far capire a quelli che frequentano le università che la pubblica relazione è un ambito che funziona sempre che bisogna imparare a capire come si fa i press release, come si fa a mandare fuori comunicazione, come si fa a organizzare un evento abbiamo fatto questa parola pivoting, che è uno come nel basket, va a destra, va a sinistra noi abbiamo imparato come fare i pivoting e abbiamo cominciato a fare le chiamate Zoom e trovarsi con i giornalisti su Zoom io per esempio ho un cliente storico che è la Priscilla Ratazzi che è figlia di Susanna Agnelli che è una grandissima fotografa che è conosciuta in America, ha fatto tante mostre lei ha organizzato una delle primissime mostre a New York a Staley Wise giù a Soho in persona, non era streaming e abbiamo fatto l'apertura il 17 settembre dopo l'estate ed è venuto il New York Times il New York Times ha scritto sulla prima pagina una recensione della sua mostra ma non solo il New York Times, è uscito ovunque, è venuta gente cinque alla volta con maschera, con tutto ebbe un grandissimo successo abbiamo anche messo la mostra online per chi non poteva, non voleva venire però è uscito articoli su questo UDUS che sono strutture aiuta bellissime, sono strutture naturali per me fu una cosa bellissima perché per la prima volta ho potuto seguire una cosa da vivo dopo tante messe piano piano infatti si cominciano a vedere degli eventi per quanto diciamo piccoli con grande attenzione eventi diciamo dal vivo però al tempo stesso diventano sempre più importanti i social media perché molti eventi sono stati diciamo gestiti dai social diciamo di cui tu avevi già diciamo da molto tempo intuito l'importanza mi puoi dire qualcosa di questo aspetto? certo, certo, sai social è importantissimo però più che altro i video cioè diciamo che Instagram Live è diventato molto importante a vedere anche per esempio questa cosa piccolissima che stamattina ho fatto lo scatto dalla finestra mostrando Columbus Circle facendo vedere al mondo che siamo qui, che siamo vivi, che funziona il mondo cioè è diverso i social media, io vedo una cosa, la gente vorrebbe conoscere però non vorrebbe in questo momento essere invidioso non vorrebbe non poter partecipare a una cosa che io faccio, vado a ballare, vado qua, vado là quando faccio i social media adesso cerco di essere più didattica cerco di lasciare un messaggio che loro possono entrare quanto me allora per esempio c'è stata la mostra al Metropolitan della terrazza che si poteva vedere tutto New York e Metropolitan è stato veramente molto intelligente, ha lasciato entrare pochissima gente e io ho fatto vedere sui miei social media proprio la camminata, cosa ho visto prima, seconda, terza sono andata sul rooftop con loro, ho fatto vedere la piccola exhibit che loro mostravano e faccio così, poi sono andata al Brooklyn Museum, ho fatto vedere la mostra del studio 54 degli anni 70 che fu bellissimo e anche lì dieci persone tutte in maschera alla volta cioè è più così Ecco Selly mi interessa sapere una cosa, secondo te questa che stiamo vivendo adesso oggi viviamo l'arte, le manifestazioni eccetera come lo dicevi tu in maniera un po' alternata tra presenza e mondo virtuale, sarà la nuova normalità con cui dovremo abituarci a vivere nel futuro? Sai, non dobbiamo abituarci a niente perché tutto è ancora da scoprire e da capire però certamente certe cose non andranno via per esempio prima io ero molto su Skype, per dire di application solo io facevo Skype e adesso c'è Zoom, su Zoom sicuramente si supererà anche Zoom però per esempio io avevo un ufficio che ci tenevo tantissimo al mio ufficio adesso lavoro da sola con i miei collaboratori online e prima odiavo fare così, insistevo che la gente venisse in ufficio io sono stata incinta tanti anni fa, ho fatto partidito però sono sempre andata in ufficio chi mi dice che deve lavorare da casa non ci... invece ora tutti a casa, va benissimo a casa ho imparato a lavorare in remote e credo che una parte del domani sarà sicuramente online, sicuramente Senti, c'è un aspetto importante secondo me e tu sei la migliore persona per parlarne soprattutto agli italiani raccontaci veramente che cosa significa l'Italia per gli americani quanto sia importante la nostra cultura per questo paese in modo in cui loro ci guardano Ti devo dire che l'Italia è sempre stata un paese pieno di amore per noi cioè l'americano è molto molto innamorato dell'Italia forse come primo paese cioè se tu prendi Travel and Leisure che è la nostra magazine più goduto come viaggio o Departures o Traveler loro scelgono quasi ogni altro anno Italia come paese per dare notizie ai turisti se c'è un paese più voluto come paese di meraviglia paese di honeymoon, di lune di miele paese di vacanza paese di voler lasciare le tracce è Italia ora diciamo che anche viceversa che io mi ricordo gli anni forse era dopo le banche una situazione non piacevole in America e gli americani per un periodo forse un anno due anni non viaggiavano con l'Italia quanto prima il turismo era basso anche dopo l'11 settembre ci fu un periodo e diciamo che l'Italia veramente mi ricordo entrare in un albergo mi hanno detto meno male gli americani stanno rientrando in Italia che adoriamo loro come turisti perché sorridono perché sono sempre allegri sono sempre felici e contenti e questa è l'immagine dell'americano che viaggia in Italia arriva lì sunshine la parole cioè diciamo che ci sono tante cose che l'americano non vede l'ora di vedere Roma, Venezia Milano Verona Bologna Napoli Sicilia sono tante piazze tante tante cosa vuol dire promuovere l'Italia qui in America il lavoro che tu fai che è anche un lavoro di mediazione è un lavoro di comunicazione è un lavoro di racconto quanto è importante lo storytelling molto importante il storytelling vi do un esempio adesso e forse interessa vi do una notizia in anteprima che è molto interessante anche da parte mia noi lavoreremo con il museo il triennale di Milano quest'anno e avremo una partecipazione con il museo per i prossimi tre anni fino al triennale internazionale del 2022 ora il triennale si è riaperto e si è chiuso e riaprerà perché tutto andrà per il meglio come i musei come conosciamo diciamo che io sto già lavorando per comunicare le mostre del 2021 e per me è importantissimo perché quelli di design in America vogliono tornare in Italia non vedono l'ora di frequentare il salone del mobile dell'aprile 21 perché è stato chiuso è stato fermato nel 20 lo stesso con tutte le altre fiere noi abbiamo avuto la possibilità di promuovere i fillini perché il cent'anni a MoMA nel dicembre è stato spostato al dicembre del 21 con luce e cinicità che è un altro mio cliente tante cose che hanno avuto un momento di relax però relax per dire come data calendario però siamo sempre qui a organizzarlo a far conoscere a far visione di fillini a far conoscere che andrà avanti nel 21 lo stesso che siamo lì che siamo qui che aspettiamo ecco Selly a me interessa far capire ai nostri ascoltatori perché sentirti parlare è veramente bello e affascinante abbiamo raccontato che tu ti sei formata culturalmente con le scuole e l'università frequentate in Italia ecco quando hai nella tua mente è venuta l'idea nel tuo cuore di dedicarti appieno al mondo delle pubbliche relazioni soprattutto alla promozione dell'Italia ecco quando è scatata in te questa molla? aggiungo che l'hai avuto un'importante esperienza giornalistica anche prima no? ti pare che sei stata giornalista sì grazie siete troppo gentili ma veramente ti giuro che non è che mai mi è scattato niente in mente fu una strada normale cioè nel liceo a New York io partecipavo a una scuola privata per ragazze e diciamo che tutti mi conoscevano come la ragazza che comunicava i messaggi ho organizzato il ballo ho organizzato la beneficenza ma già a 15 anni ero tutta a chiamare la stampa perché allora non si comunicava con email e già allora loro mi dicevano ma sei sei tutto dentro il mondo social e poi quando ero ragazza ma veramente 13 anni mia mamma mi ha portato con un'amica a Roma Firenze Venezia Milano in tutte le piazze importanti i miei occhi sono aperti cioè non avevo mai visto Europa e io ho adorato Italia ho sempre detto devo tornare devo tornare quando al liceo noi facciamo spesso anche in Italia voi avete questi Erasmus io nel liceo ho avuto un periodo di studio nella mia high school dove il nostro insegnante della storia dell'arte ci ha portato a Firenze e ci ha portato per ben tre settimane a studiare i musei e le chiese e per me di nuovo fu un'esperienza con Italia che ho detto vabbè ci devo tornare e sono tornata ho finito l'anno il liceo a Firenze facendo una exchange student e poi sono tornata appena diplomata con il mio liceo qua a New York a fare l'università a Firenze poi via via cominciando a fare esperienze lì a Firenze ho fatto poi lo studio Montessori a Perugia specializzandomi nell'insegnamento ero davvero per qualche anno veramente italiano perché in quegli anni fine anni 70 inizi anni 80 non si parlava molto l'inglese non è come ora però poi ho visto che volevo rientrare a New York sono tornata come giovane donna volendo cominciare una carriera qui e conoscevo pochi perché tutti i miei amici erano avevano fatto università qui e allora ho cominciato a pensare ma forse bisogna che io mi seguo una carriera con l'Italia perché ho più conoscenze nell'ambito professionale che in America e ho cominciato a lavorare con la Rai TV che poi è andato avanti con la Rizzoli è un periodo di giornalismo però devo dire che sempre la mia forza era nei contatti networking comunicazione allora fu una compagnia di cinema l'Orient Cinema che oggi è Sony a chiedermi di organizzare una specie di piattaforma di cinema italiana un festival e sono venuti Carlo sono venuti davvero da Nino Manfredi tutti i grandi del cinema a far vedere il loro film perché ero ancora vivo al momento Vittorio Gassman tutti tutti i grandi hanno fatto una serie di cinema che ho seguito io e da lì sapevo che il mio momento era arrivato e il tuo futuro oramai era presente tu hai lavorato con una serie di personaggi incredibili di personalità italiane chi è che ricordi con più maggiore diciamo amore affetto forse lo so sono tanti però qualche nome forse come personaggio Roberto Benini perché veramente lui mi ha fatto ridere dal momento in cui l'ho conosciuto è andato sulla mia scrivania in ufficio ha cominciato a baciare abbracciare tutti ma Filini Bertolucci cioè dico personaggi così però l'evento che mi ha veramente scossa in un modo positivo fino al massimo erano le Olimpiadi del 2006 a Torino perché per me fu una grande scommessa non conoscevo Torino e la nostra agenzia è stata presa come agenzia di comunicazione per l'America non dello sport ma delle comunicazioni per Lifestyle in piazza San Carlo tutti i giorni con i media americano con NBC e tutto e lì per me era come ero di nuovo ragazza e andavo a fare l'orasmus con gente che non conoscevo hai raccontato una Torino diciamo che in quel momento si stava diciamo si stava riprendendo alla grande riprendendo e facendosi conoscevano e erano conosciute come persone non 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 caldissimi e forse invece era tutto diverso era bellissimo erano cordiali carini abbiamo fatto tutto e di più su mangiare Italy stava aprendo al momento era un momento per me incredibile incredibile Sally puoi darci qualche consiglio per quanti operano nel tuo settore in Italia qualche suggerimento conoscendo entrambi i mondi per affrontare soprattutto questo momento difficile io devo dire che bisogna avere pazienza anche se non ci fosse Covid pubblica relazione è un lavoro di routine e di pazienza bisogna mettere insieme persone alle cose giuste al contatto giusto cioè per esempio bisogna far conoscere l'attore al persona della stampa che vorrebbe in quel momento conoscere e se non ha voglia no non spingere però bisogna sapere bisogna essere sofisticati anche nei tempi cioè non bisogna mai spingere bisogna prendere te indietro il cliente come prima e non avere ego molto bene molto bene Letizia penso che questa chiacchierata con Selly sicuramente sarà di arricchimento per tutti oltre che l'ho detto già prima non voglio ripetermi ma è veramente affascinante sentirla raccontare poi ha fatto dei nomi che sono la storia anche della cinematografia italiana o no Letizia? penso no opposto io li ho fatti fare insomma dei nomi incredibili a cui lei è stata molto vicina che ripeto anche con una grande grande umiltà salutiamo salutiamo il nostro collegato l'inviato speciale così abbiamo risolto tutti quei che mi stai facendo passare sì ma spero che tornerete presto a riparlare perché pubblica redazione è un ambito bellissimo e spero che i ragazzi di oggi che stanno studiando le persone mature che sono già nel mestiere che hanno voglia di imparare ci pensano che se si annoiano è perché non lo stanno facendo con gusto sicuramente guarda oggi tantissimi giovani soprattutto in Italia affrontano un mondo di studio che è quello del marketing io penso che anche il marketing vada di pari passo con le pubbliche relazioni ma certo facciamo anche noi marketing è fondamentale bene allora io non faccio altro che purtroppo dover interrompervi che abbiamo veramente divorato una più di mezz'ora di chiacchierata piacevolissima insieme alla nostra ospite Sally Fisher che ringrazio veramente per essere stata con noi posso dire solo una cosa che mi è pubblica adoro la mia azienda si chiama Sally Fisher PR perché noto e anche tu l'hai fatto che il mio primo nome Sally il mio cognome Fisher è una parola adoro sentire Sally Fisher perché mi fa mi fa sorridere è vero Sally veramente grazie di essere stata con noi avremo piacere se tu sarai disponibile anche a tornare a collegarci con te per sapere ecco subito dopo questo momento di grande difficoltà che stiamo vivendo in tutti i paesi lo dicevi anche tu prima non c'è confine per la crisi legata alla pandemia Covid-19 vorremmo avere ancora delle parole di speranza da parte tua e spiegarci anche come sta andando avanti il settore delle pubbliche relazioni con gran piacere non so quando sarà in motore questo però quando sarà avanti per il pubblico questo servizio però voglio dirvi che per noi la settimana prossima è Thanksgiving e noi festeggiamo questo giorno di ringraziamento dove siamo davvero vogliamo ringraziare tutti per essere qui nella terra e poi abbiamo Natale che festeggiamo tutti con tutto il mondo quest'anno sarà particolare per tutti allora voglio augurarvi un buon fine anno un buon Thanksgiving per chi pensa a noi e un buon Natale grazie 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 Letizia anche a te per come sempre per la tua presenza per i tuoi interventi anche perché poi la conoscenza tua lì da New York è il valore aggiunto è il valore aggiunto ecco ricordiamo Letizia Aeros che si divide fra Italia e Stati Uniti ma sempre più la sua presenza oramai a New York torna ecco una persona che conosciamo entrambi molto più vicina a lei che a me ha detto ti aspetto per Natale vedi di tornare a Napoli ecco andiamo troppo sul personale riesco a farlo presto molto bene allora ringrazio tutti ringrazio i nostri ascoltatori e l'appuntamento al prossimo incontro con Ok Italia le parliamone grazie mille a tutti arrivederci davvero grazie grazie ciao